Buongiorno a tutti, oggi è sabato 30 dicembre 2023. Mentre in Terrasanta proseguono le operazioni militari con un bilancio di morti civili letteralmente spaventoso, il magazine politico scrive sulla base di confidenze rese da fondi interni all'amministrazione Biden che gli Stati Uniti e l'Unione Europea stanno mutando in maniera felpata la linea d'azione nei confronti dell'Ucraina. Se fino a non molto tempo fa si trattava di fornire a Kiev tutto il sostegno necessario a infliggere una sconfitta strategica alla Russia, l'obiettivo sembra ora consistere nel rafforzamento per quanto possibile della posizione negoziale dell'Ucraina in vista di un accordo che pone la fine alla guerra, da raggiungere anche a costo di pesanti concessioni territoriali a Mosca. Quanto c'è di vero e di verosimile in tutto questo? Cerchiamo di capirlo assieme a Lorenzo Maria Pacini che è un docente, un saggista tra i massimi conoscitori del pensiero e del filosofo e politologo russo Alexander Dugin di cui ha curato la pubblicazione di numerose opere in lingua italiana. È autore dei volumi Scuola di Pensiero Forte diviso in due tomi editi tra il 2019 e il 2020 e Dugin e Platone pubblicato da settimo sigilo nel 2023. Io Lorenzo ti ringrazio anzitutto per la disponibilità. Grazie mille a te Giacomo e agli amici del contesto, è un piacere essere qui. Grazie. Come dicevo l'amministrazione Biden sostiene che l'Ucraina abbia già ottenuto una grande vittoria impedendo alla Russia di conseguire l'obiettivo strategico che gli stessi Stati Uniti gli attribuivano, consistente nel rovesciamento del governo di Kiev e nella sostanziale conquista del paese. Si tratta di una narrazione altamente discutibile ma che risulta perfettamente strumentale al cambio di paradigma di cui parla la rivista Politico. Tu credi che questo conflitto sia veramente agli sgoccioli? Personalmente definirlo agli sgoccioli mi sembra molto difficile per una questione prettamente strategica e non tattica. Nel giornalismo spesso viene confusa la differenza tra tattica e strategia, che per fare in breve sappiamo essere la tattica, il breve periodo, la strategia, una programmazione su un lungo periodo. E poiché sono profondamente convinto da filosofo politico che la politica si faccia sulle lunghe distanze, quindi c'è sempre una programmazione molto estesa, così come ci sono stati dei prodromi estremamente lontani, rintracciabili in numerose punti di preparazione di quello che è stato il principio del conflitto in Ucraina. Similmente non vedo perché dovrebbe concludersi così velocemente il medesimo per giovare a chi. Il problema è proprio questo, quando si innescano dei conflitti c'è sempre da domandarsi poi, quando li si vogliono far terminare, a chi giova, a cui protest. Ecco, gli Stati Uniti in America hanno una crisi politica interna che è molto nota, oramai non si riesce più a nasconderla. Una crisi che era già precedente al governo di Joe Biden, una crisi che nel periodo di Donald Trump aveva in qualche modo avuto una sua mitigazione, dovutamente a alcuni interventi di carattere sociali, però è stata riacuita soprattutto con il conflitto russo-ucraino e adesso lo diventa ancora di più con la questione israelo-palestinese. Questa posizione che tutto l'entourage del governo Biden ha tenuto nella narrazione di come sarebbe dovuto andare il conflitto russo-ucraino è passato, e qui si capisce anche perché adesso, insomma, per dare giustificazione alla mia risposta, perché funziona, sta scrittiolando, funzionicchi avrebbe detto qualcuno, è dovuto fondamentalmente al fatto che a livello di strategia anche comunicativa sono stati utilizzati degli attori periferici, non per importanza e per autorevolezza, ma periferici per quanto riguarda la prossimità al governo. Stoltenberg, capo della Nato, più di tutti è intervenuto a livello di comunicazione per il conflitto russo-ucraino. In seconda battuta ci sono stati tutti i vari vassalli, balvassori e balvassini dell'Unione Europea e da ultimo, ma non meno, il portavoce stesso del governo Biden. E a tempi alterni comparivano figure più o meno addentro al mondo militare che dovevano raccontare un certo aspetto del conflitto. La narrazione che la Russia era già sconfitta in partenza, che i russi stavano combattendo con le vanghe e le fionde, tipo Davide contro Golia, chiaramente non reggeva da principio e proprio perché questa comunicazione non è andata a buon fine e in qualche modo ha tenuto il gioco ben poco probabilmente rispetto a quanto si aspettava, configura adesso un problema proprio di carattere comunicativo nel giustificare all'opinione pubblica delle scelte che invece sono squisitamente politiche, economiche e che sono quelle che riguardano la spesa fondamentalmente. Quanti soldi dei contribuenti si vanno a spendere, dove li si vanno a spendere, perché si continua a combattere un conflitto che oramai anche di fronte alle testate del cosiddetto mainstream risulta essere chiaramente ribaltato rispetto ai cronostici totalmente parziali che erano stati fatti. Una narrazione va detto molto diversa da quella che è avvenuta in Russia, sebbene chiaramente la propaganda faccia parte dell'essenza della comunicazione politica da tutte le parti e sempre. Ma questo è interessante perché da una parte abbiamo o uno Stato o meglio una, perdonatemi, una somma di Stati che sono quelli che afferiscono poi alla Nato e a tutto il cosiddetto occidente collettivo che si è schierato contro la Russia in questo conflitto, che vivono una crisi, una crisi come dicevo prima non soltanto quella interna americana, ma una crisi anche espansa, diffusa, che è quella dei paesi europei, che è quella dei blocchi delle sanzioni, che è quella di una quindicina forse anche di più di anni di crisi economiche reiterate a più riprese, una crisi di carattere anche politico. Nell'Italia ne è una testimonianza, abbiamo avuto 14 anni di governi tecnici, ma lo stesso sistema Unione Europea non funziona più a livello politico. E quindi questa comunicazione, questo modo di interpretare il conflitto, di raccontarlo, adesso non regge più. Dall'altra parte noi invece abbiamo avuto un paese come la Russia, con tutti quei paesi che in qualche modo hanno sostenuto, o perlomeno che si sono neutralmente schierati durante il conflitto, che invece vive un periodo estremamente florido, con pochissime sacche di negatività all'interno del bilancio. Quindi anche la possibilità di vedere, di far sperimentare concretamente alle persone, quindi di costruire una coscienza collettiva e una percezione sociale del conflitto, che assolutamente non è quella che si vede dall'altra parte. La maggior parte, questo lo dicono ovviamente i sondaggi, non sono un fan dei sondaggi, però citiamoli, visto che fanno sempre numero, che la maggioranza, una stragrande maggioranza della popolazione russa è a favore di quella che è stata tutta la politica tenuta nel periodo del conflitto da parte della presidenza di Vladimir Putin. Quindi ci troviamo inevitabilmente di fronte a un problema, chi deve raccontare e come farlo ciò che sta avvenendo, perché se poi andiamo sul fronte, per passare a un momento più strategico, lì la realtà è totalmente diversa da quella che è stata sempre raccontata. Però noi sappiamo, abbiamo anche il contesto, più volte avete citato e trattato l'argomento, ma lo sviluppo strettamente bellico e strategico del conflitto russo-ucraino è ridicolo. Mi permetto di usare questo termine, non voglio essere offensivo assolutamente nei confronti di tutti coloro che purtroppo sono morti e continuano a morire su questo fronte. Ma quella che abbiamo visto è, a mio parere, una guerra combattuta dal piano strettamente umano, strettamente riguardante il campo di battaglia, alla vecchia maniera, in una maniera in cui le guerre non si combattono pressoché più, tanto che molti analisti si sono domandati se avessimo fatto un salto all'indietro nella storia per tornare a combattere di nuovo le guerre corpo a corpo con le baionette oppure no, e che è stata fondamentalmente giocata dalla parte dell'Occidente con un enorme apporto di uomini, di denaro, di risorse strategiche soprattutto, e dall'altra parte invece è stata giocata con il minimo, con le riserve dei volontari, con le giacenze di magazzino dell'artiglieria. Ecco, questo è un problema, è un problema per l'Occidente, è un problema anche quando si vuole andare a raccontare come finirà questa guerra o dove andrà. E quindi, per quanto mi riguarda, è difficile, per agganciarmi alla domanda, prevedere un termine breve, perché quello che è successo nel mentre e che è stata, a mio parere, la vera guerra che abbiamo visto in questi ormai due anni, siamo quasi alle porte, è stato il ridisegnare completamente tutti gli equilibri geopolitici nel mondo attraverso quello che probabilmente sarà ricordato per il ventunesimo secolo il politico, il diplomatico più grande della storia, che è stato Vladimir Putin, scusate, non Vladimir Putin, è Sergei Lavrov, come lo è stato Henry Kissinger nel bene e nel male durante il ventesimo secolo, cioè uomini che sono stati capaci da soli di cambiare le carte in gioco e di rimescolare il mazzo e lo hanno fatto in maniera incredibile, perché la vera guerra, quella che si è combattuta in maniera, anche qui in parte tradizionale, ma sicuramente molto ibrida, sul piano diplomatico, sul piano di ridisegnare tutte le rotte commerciali, di avviare nuovi grandi partenariati, di trasformare anche nell'opinione pubblica il concetto stesso di mondo. Ed è un qualcosa di cui probabilmente anche sul piano più sociologico, antropologico, ci renderemo conto tra qualche anno, forse decennio, perché noi abbiamo cambiato completamente il modo di intendere la vita su questo pianeta da periodo pandemico fino ad oggi, passando anche attraverso il conflitto russo-ucraino. E siccome da una parte c'è stata una vittoria palese, evidente sin da subito, quella russa che ha sganciato l'Occidente, c'era qualche giorno fa è uscito un reportage, mi pare, del Consul for Foreign Affairs, che è uno dei massimi think tank americani, forse uno dei più pericolosi vista l'importanza e la pressione che esercitano sul governo americano, così come la Rand Corporation, che diceva che la guerra cognitiva è stata vinta dalla Russia perché è riuscita a convincere il mondo di non aver più bisogno degli Stati Uniti. Ecco, allora volendosi domandare tra quanto finirà, mi permetto di controbattere e concludo con una domanda. Quanto ancora gli Stati Uniti vorranno essere massacrati da un punto di vista che è molto più dirimente rispetto a quello di averci il missile e il fucile più grosso, perché è quello della adesione dei propri cittadini in un contesto, ripeto, di crisi, di problematiche interne, di mezze guerre civili, quanto invece la Russia ancora riuscirà a ridefinire tutte le carte del mondo perché veramente sono state toccate tutti gli Stati del mondo e a molte è stato fatto cambiare idea. L'abbiamo visto in Europa e probabilmente lo vedremo anche in altri paesi perché sapendo che gli stessi Stati Uniti o meglio tutto lo stesso continente americano ha cambiato, ha variato e lo sta facendo anche in queste ore molto velocemente il proprio assetto, la propria posizione, io non mi stupirei se proprio all'interno degli Stati Uniti cominciassero ad esserci delle fortissime sacchi di resistenza istituzionale e diplomatica che potrebbero far rigredere completamente il sistema di governo americano. Molto interessante quello che dice, anche perché ci ricollega a quel discorso che io formulo di solito, cioè io ho sempre pensato che l'egemonia statunitense poggiasse su due solidissimi pilastri. Quello diciamo forse essenziale chiaramente ma forse sopravvalutato è la deterrenza, cioè il fatto di avere una capacità militare incommensurabile, capacità di fuoco potenza rispetto a tutte le altre, che un po' è le immagini che poi gli Stati Uniti hanno trasferito alla Nato nel suo complesso. Quell'altro più importante, di gran lunga più importante, era l'immagine, la persuasione, la capacità di proiettare di sé un'immagine positiva e di suscitare un'adesione volontaristica da parte di gran parte del mondo a un modello organizzativo imperniato sugli Stati Uniti. In molti casi era volontaristico, era il cosiddetto soft power, quello che ha coniato. Ecco, a me sembra che allo svanire di uno stia svanendo anche, corrisponde allo svanire dell'altro. Perché? Perché la funzionalità dell'ordine unipolare è stata, la disfunzionalità dell'ordine unipolare incentrato sugli Stati Uniti si è manifestata attraverso le ricorrenti crisi, gli interventi unilaterali, eccetera. Quella, diciamo, rimaneva l'altro pilastro, quello basato sulla superiorità militare. E la superiorità militare è stata fortemente messa in discussione da questo genere di conflitto. Perché, parliamoci chiaro, questo è un conflitto tra la Russia e la Nato, in cui la Russia sta tenendo testa con le proprie forze, da un punto di vista politico, militare, economico, alla Nato nel suo complesso. E questo incrina la deterrenza della Nato e probabilmente ha indotto tutto, cioè ha impresso un'accelerazione a tutta una serie di processi che erano già in corso, la dedollarizzazione, i colpi di Stato che ci sono in Africa, l'allargamento dei BRICS, eccetera. Però c'è un fattore in tutto questo, secondo me, di cui si parla poco. La Russia ha rafforzato la propria coerenza interna, chiamiamola così. Putin ha recuperato un po' l'esperienza staliniana, che nel coro mondiale Stalin ricreò quel legame fortissimo con l'ortodossia, che è un po' quello che la Russia sta facendo. Questo è un punto anche su cui Dugin calca parecchio. Tu quanto credi che abbia influito questo genere di ricoperta delle radici ortodosse da parte della Russia? L'argomento dell'ortodossia russa è estremamente affascinante, proprio nella sua dimensione politica, quindi cercherò di dare qualche suggestione che mi colpisce molto. Guarda, mi fa piacere questa domanda perché è una forse di quelle più affascinanti, perché toccano nel cuore una delle grandi differenze che abbiamo nella nostra percezione ed esperienza politica tra l'Europa dell'Ovest e l'Europa dell'Est, quindi tra veramente una dimensione europea, nel senso stretto, e una dimensione invece eurasiatica. L'ortodossia russa diventa centrale soprattutto con l'avvento, con l'ascesa al potere di Putin, che cambia molto la situazione di quello che era stato il periodo post-sovietico. E come sappiamo l'ortodossia russa, che si spalma all'interno di secoli di storia dalla primissima missione apostolica di Vladimiro I di Kiev, della principessa Olga, sua figlia, per poi arrivare fino alla costituzione del patriarcato vero e proprio, ma nella fase del passaggio dal periodo zarista alla rivoluzione di ottobre, in quella lenta e complessa, quel rimodellamento che c'è stato durante il periodo sovietico, soprattutto la prima parte, si resero subito conto, i sovietici, di non essere in grado di distruggere, di togliere quell'essenza profondamente religiosa che appartiene alla Russia, che è un qualcosa di molto affascinante, basta considerare, lo butto lì come idea, che la Russia è continentalmente e politicamente l'area che divide letteralmente a metà il mondo europeo, che è un mondo logoscentrico, che è un mondo razionale, che è un mondo di scienza e calcolo, un mondo di bellezza ordinata, con invece dall'altra parte il mondo del lontano oriente, che è un mondo non logoscentrico, che è un mondo con un dualismo spirituale, diverso, che è un mondo che ha dato per eminenza alla parte artistica, alla parte anche, come potremmo dire, più femminile dell'essenza umana e quindi la Russia somma in sé due polarità estremamente diverse e l'ho sempre fatto in maniera estremamente affascinante. Il Novecento è stata una dimostrazione dove c'erano magari grandi strateghi e i grandi matematici, ma c'erano anche i grandi mistici e i grandi scopritori di cose che ancora oggi si sa come le abbiano scoperte. E nel dire questo, la dimensione dell'ortodossia viene quindi sfruttata in maniera molto brillante sin da subito per mantenere compatta l'essenza politica che si andava a dare a quello che doveva essere il popolo russo sovietico. Quindi impregnando il famoso comunismo dell'ortodossia, qualcuno l'ha definito, ortodossia rossa, non russa, come altri hanno commentato. È un qualcosa di incredibile perché sono riusciti davvero a mescolare, mettere insieme, e questo secondo me è stato possibile proprio in virtù dello spirito, del popolo, del modo di essere dei russi, di interiorizzare e tenere dentro questo connubio, apparentemente anche da un punto di vista più teologico e dottrinario contraddittorio, riuscendo in qualche modo a mutuare, a fare proprio, a giustificare la dimensione del comunismo sovietico all'interno dell'ortodossia. Questo è stato possibile, a mio parere, anche con la scorta della filosofia alle spalle, grazie proprio alla dimensione platonica dell'ortodossia rispetto invece alla dimensione aristotelica che ha il cristianesimo occidentale, che ha permesso quindi di interpretare la ridistribuzione dei beni in senso comunista in maniera più agevolata nei confronti anche dello spirito cristiano. E nel fare questo, quando c'è stato il passaggio, una rottura tra il modello sovietico e il modello invece federativo repubblicano, non dimenticando mai, molto importante, che l'Unione Sovietica, la Russia Sovietica non è stata sconfitta militarmente, ma è stata sconfitta politicamente. Questo è un dettaglio che spesso si parla della caduta dell'Unione Sovietica, sì, è vero, ma bisogna specificare che militarmente la Russia non è mai stata sconfitta da nessuno, almeno fino ad oggi. La dimensione dell'ortodossia diventa quel collante che riesce a tenere insieme in quel delicato e assolutamente loro lo definiscono in fausto momento di passaggio, dove l'incudine occidentale del liberal capitalismo, soprattutto di stampo americano, dove le intromissioni da parte dei servizi di intelligence, dove la stampa, dove dei modelli di vita e di consumo venivano introiettati in maniera rapidissima all'interno di quello che era stato una enorme macroarea, dove c'era stata una profonda chiusura per circa 70 anni, che non sono affatto pochi, nel fare questo l'ortodossia è lo scudo che mantiene l'identità russa e che in qualche modo ne permette anche una metabolizzazione ulteriore. E dicevo che diventa importante, a mio parere, proprio nel periodo dell'ascesa di Putin, nella sua primissima fase di governo, perché? Perché Putin di fatto ha rappresentato, e questo ormai è più che evidente e conclamato, una vera e propria sorta di riscoperta di un'identità russa, letteralmente russa, propriamente russa, autenticamente russa e quindi non più russa in virtù di un cambiamento che c'era stato 10-15 anni prima, 1991-92, col passaggio alla forma repubblicana federale, non è più neanche la Russia che c'era stata prima, che era la Russia zarista, che era una Russia che comunque manteneva una distanza importante, soprattutto dal punto di vista dello sviluppo delle tecnologie e della diffusione degli stili di vita, ma è una Russia che in qualche modo vuole riconquistare un suo principio di sovranità e nel fare questo Putin applica un realismo politico, non ci dimentichiamo che Putin è stato un politico che in qualche modo ha davvero prima secondato, passatemi questo termine, molte delle politiche liberali occidentali e successivamente ha cambiato qualcosa. Che cosa ha cambiato? In Russia c'è stato un periodo, una fase, proprio quella degli inizi nei 2000, quella della trasformazione, della rinascita della Russia anche su un piano economico e geconomico, anche di fronte a tutti gli altri stati del mondo e quindi riuscendo a riacquisire la sua forza, la sua importanza, il suo soft power per restare in tema, in cui in qualche modo all'interno del governo russo, all'interno del Parlamento c'è sempre stata una presenza profondamente filo-occidentale, profondamente liberale, sistemica, che quindi apparteneva ormai a quella nuova Russia, la Russia del ventunesimo secolo, ma allo stesso tempo c'è stato un qualcosa che invece ha cercato, approfittando di questa presenza liberale, di trasformare le carte in gioco. Guardate, i russi non sono giocatori di poker, sono giocatori di scacchi e questa è una differenza molto importante che un po' per ridere, ma nemmeno troppo, bisognerebbe sempre tenere in considerazione quando si parla dell'aspetto bellico, come la Russia fa la guerra, come invece lo fanno coloro che giocano a poker, soprattutto gli americani. Perché negli scacchi c'è un tipo di calcolo, di attesa che è diversa da quella del poker. Negli scacchi non si può bleffare allo stesso modo. Chi è appassionato di scacchi e gioca a scacchi sa bene che, oltre che i russi essere dei maestri nel gioco degli scacchi, sanno bene come si posizionano le pedine, quale valore hanno e quale anche sacrificio si può fare per ottenere una vittoria maggiore. E questo è un qualcosa che invece nel poker non si fa, perché nel poker c'è un azzardo, c'è un maggior rischio, c'è anche un pericolo che è quello di poter perdere tutto all'improvviso, mentre negli scacchi c'è una maggiore possibilità di resistere più a lungo. E questa diversa topografia politica e poi anche geopolitica passa proprio nel momento in cui Putin, soprattutto nel periodo in cui Medvedev diventa presidente dal 2008 al 2012, se non ricordo male, e poi cede nuovamente il testimone a Putin, in qualche modo riesce a disinnescare l'interesse, soprattutto da parte della popolazione, per il mondo occidentale. Perché? Perché la Russia nuovamente riesce a offrire qualcosa ai russi che sia propriamente russo. Putin torna al governo e in qualche modo gli riesce a iniziare, a principiare la fine di quella grande forza liberale, filo occidentale, molto infiltrata, particolarmente straniera proprio al modo di essere dei russi, riportando gradualmente la Russia a una fase russocentrica. Ci provò nel 2014 con l'operazione di Novorossia, ci ha provato con l'unificazione della Crimea, ci hanno provato nuovamente, secondo me, proprio con l'operazione militare speciale nei territori del Donbass. Perché in qualche modo Putin lì ha mostrato al mondo e con lui tutta la Russia che c'era la possibilità di cambiare veramente il modo di intendere che cos'era l'autorità, che cos'era la sovranità, che cos'era l'autodeterminazione dei popoli. In questo l'ortodossia è stato ciò che a mio parere ha davvero permesso che questo avvenisse senza avere rivolte sociali. Pensiamo soltanto a come quelle poche, relativamente poche volte in cui il patriarcato di Mosca ha interagito sulla dimensione politica, fateci caso è molto, da molto tempo che non sta parlando e questo è curioso, dovrebbe farci riflettere, è sempre stato per riaffermare non tanto lo schieramento da una parte o dall'altra della barricata, quanto piuttosto per ridefinire la dimensione sacrale delle scelte politiche e la russità di esse che venivano promosse da chi era il governo in quel momento. Questo modo di parlare al popolo russo, che è per la stragrande maggioranza ortodosso e anche soprattutto agli ortodossi russi che si trovano fuori dai confini della Russia, ha fatto veramente secondo me da quella che è l'azione propria delle autorità religiose, che è quella di dare un'indicazione per le anime dei loro fedeli e quindi anche persuadere o meno a seguire la dimensione politica piuttosto che invece opporsi ad essa. Probabilmente se non ci fosse stato proprio l'intervento del patriarcato nel momento dell'inizio dell'operazione militare speciale e anche in un paio di altre fasi che sono state molto delicate, cioè il compimento del primo anno dell'operazione e poi inevitabilmente anche quei due o tre momenti iconici di uccisione di vari personaggi, giornalisti, filosofi nel contesto russo che sono diventati simbolici per quella che era la dimensione sacra proprio della battaglia, probabilmente l'opinione pubblica non sarebbe stata così favorevole. Questo perché le guerre non fanno bene, le guerre non fanno bene nessuno, le guerre non sono mai una cosa buona e in quello che qualcuno definì il migliore dei mondi possibili, a quanto pare ancora le facciamo e servono e continuano a servire, continuano ad essere utilizzate per trasformare questo mondo. In qualche modo e termino, credo che la dimensione dell'ortodossia sarà proprio durante anche il 2024, che è un anno per la il motore, il propulsore di questa riaffermazione 100% russa, russo-centrata, di grande ricostruzione di un'identità nazionale, che probabilmente, e spero di sbagliarmi, sarà uno scudo importante verso nuovi attacchi che la Russia riceverà. In qualche modo, nella mia interpretazione, anche leggendo le parole dei politici russi, vedendo gli schieramenti che ci sono nel plateau delle prossime elezioni e guardandoci anche intorno con quello che sta succedendo e i posizionamenti che la Russia ha assunto, il 2024 sarà un anno di out-out, dove o la Russia si riafferma con una dimensione diversa, non quella sovietica, ma forse una transizione verso un qualcosa di più, come si dice, una sorta di impero, di nuova forma imperiale, che non ha più all'interno l'aspetto monarchico del sangue blu, ma che acquisisce una centralità in tutto il contesto del mondo come primo sperimento di un popolo che sceglie di riaffermare una dimensione imperiale, una sorta di imperialismo democratico, ecco, se si può fare una forzatura un po' contraddittoria, un po' simonica, però che rende l'idea. E per fare questo la Russia deve riaffermare una propria russità e non può permettersi di essere sconfitta, né sul piano militare, ma soprattutto non lo può permettere su un piano culturale. Emblematica e termino davvero, no? E per me un vero e proprio segno dei tempi, potremmo dire, è stata l'estromissione delle grandi aziende, dei franchising alimentari, pensiamo a McDonald's, cambiandogli il nome. Ecco, quel cambio di nome che chiaramente non significa cacciare, non significa togliere un elemento esogeno che è stato inserito all'interno di una propria cultura, per cui il fast food esiste, è un'invenzione americana, esiste, è stato introiettato, è stato fatto proprio e ce lo teniamo. È quel ce lo teniamo che secondo me fa anche molta paura a un certo tipo di occidente, perché ha dimostrato la possibilità di trasformare, anzi, passatemi il termine alchemico, di trasmutare, no? Un piombo in un qualcosa che invece è oro. Sì, è interessante. Poi c'è anche un altro, giustamente abbiamo parlato di ortodossia, ma non è un'ortodossia con tratti panslavisti, come per esempio era conforme alla visione di Zirinovski, che aveva una visione molto divisiva, invece quello che la leadership riuscita ad attuare nel corso degli anni è stata una valorizzazione di tutte le molteplici anime che ha la Russia al proprio interno. Non dimentichiamo che la Russia, per esempio, ha 20 milioni di musulmani, più di molti paesi arabi. Se pensiamo alle devastanti guerre che ci sono state nel Caucaso settentrionale, mi riferisco soprattutto a quelle delle due guerre cecene, e guardiamo oggi cos'è la Cecenia per la Russia, il livello di fedeltà che la Repubblica Cecena ha nei confronti della leadership del Cremlino. Quello si può definire un capolavoro politico, perché evidentemente una popolazione che non è slava, che non è ortodossa, però si sente pienamente parte integrante, costitutiva di un paese che è un mosaico di culture e di etnia. Io credo che in tutto questo, non volevo chiederti se sei d'accordo, la guerra abbia giocato un ruolo importante, come lo aveva giocato, per esempio, per la Prussia, che dopo l'esercito del grande Federico, quando un esercito poderoso, ma dopo la morte di Federico, fu sconfitto in maniera brutale, terribile, dall'esercito francese e dall'esercito napoleonici a Iena. Quella fu un'occasione di riflessione che indusse le aristocrazie prussiane di Juncker, sostanzialmente, avrà una modifica radicale della loro società. Quindi abolirono la servitù della Gleba e misero in piedi una struttura che poi ha condotto alla creazione di un esercito, che è l'esercito che poi, dalla prima e seconda guerra mondiale, è stata probabilmente la macchina da guerra più formidabile che sia mai stata creata nel corso degli ultimi tempi. Tu credi che la Russia stia sperimentando un processo sotto alcuni aspetti paragonabili a quello di cui ho appena parlato? È una domanda molto interessante, ti ringrazio, perché noi siamo abituati a trattare su modelli del passato, a paragonare su modelli del passato gli eventi che ci troviamo davanti. Rischiamo talvolta, lo dico insomma come come riflessione generale, di dimenticare la evoluzione che anche questi, che la comprensione che abbiamo di questi modelli fa nel nostro ragionamento. Mi spiego meglio. La fase prussiana, ma anche come prima ho citato la fase di transizione verso il periodo sovietico, si basavano ed erano comprensibili in quel momento contingente, come funzionava il mondo in quella fase lì e in qualche modo sono rimasti anche unici nel loro genere. Quello che posso in qualche modo cogliere è, lì eravamo ancora in un momento di varco tra la modernità e la postmodernità come fasi storiche. Il periodo prussiano ha ridefinito il trattato di Vesfalia, che ha basato precedentemente, su cui è stato basato tutto quanto l'assetto degli stati moderni europei, ma non soltanto, ma pensiamo anche allo stesso 1945, con la fine della seconda guerra mondiale, eventi che hanno ridisegnato completamente le carte geografiche del nostro mondo. In quella fase lì, in quei modelli di transizione, chiamiamoli come vanno chiamati, modelli che usiamo per interpretare, si possono prendere e riapplicare se li consideriamo in un senso alternativo, cioè non può essere evitato e non possiamo fare a meno di utilizzare certi modelli ed è giusto anche fare certi paragoni per analizzare. Secondo me non bisogna dimenticare che molte di quelle cose che hanno mosso e su cui anche ci siamo formati, quei modelli, oggigiorno o non ci sono più o sono stati profondamente trasformati. Se noi consideriamo questi modelli alternativi, ne creiamo delle alternative, quindi nell'applicarli alloggi, vi inseriamo degli elementi che ci permettono di creare un parallelo anche in un certo senso libero, possiamo vedere come si stia risvegliando e mobilitando un potenziale che in qualche modo non riusciremo a cogliere se non considerassimo questa diversità. Ad esempio, la fase bellica che dicevamo poco fa è un qualcosa che a mio parere e che muoverà, come tu stesso dicevi, in questo sono d'accordo, una strada senza ritorno, cioè in qualche modo quello che è stato iniziato ci costringe ad andare avanti, costringe tutto il mondo ad andare avanti, pena l'autodistruzione. Noi pensiamo se tutto in un tratto adesso finissero questi conflitti, che cosa ci troveremmo davanti? Un mondo completamente capovolto, sì ma con un capovolgimento che è stato fatto in virtù, come dicevamo dall'inizio, di quello che sarà l'esito, di quello che sarà il dopo, che è un dopo che viene costruito anche di volta in volta, non è soltanto in buona parte già progettato. E questo è avvenuto anche per l'ortodossia, no? L'ortodossia pre-periodo sovietico è una cosa diversa dall'ortodossia di oggi. E l'ortodossia di oggi non è come quella di prima, semplicemente ritornando, è un qualcos'altro, proprio perché ha trasmutato quello che c'è stato nel mezzo. e quindi propone un'alternativa, propone anche un modo di essere, potremmo dire, cristiani ortodossi che è alternativo, che apre un nuovo ciclo. Questo avviene proprio nel momento in cui noi consideriamo le guerre di oggi e come queste avvengono. Abbiamo visto che non si può tornare indietro una volta che si comincia a combattere, che si entra nel flusso della storia e che si entra nel flusso di questi conflitti. Conflitti che in qualche modo hanno a che fare con le sorti di intere popoli. Mi ricordo che c'era stato un bellissimo convegno proprio a Mosca qualche mese fa, dove veniva riflettuto da parte dei partecipanti, dei relatori che erano di varia estrazione, dal mondo militare fino a quello filosofico, fino a rappresentanti di varie associazioni culturali. La domanda era molto semplice. Quale era un sobor filosofico? Quale Russia vorreste dopo l'operazione militare speciale? E una giovane studentessa dell'Università di Mosca, Lomonosov, disse «Ma noi non vogliamo un mondo dopo l'operazione militare speciale. Noi siamo già il mondo dopo quello che c'era prima dell'operazione militare speciale, che fa quindi da spartiacque, da veramente, da punto che viene messo nella storia, a chiusura di qualcosa di precedente. E quello che abbiamo cominciato deve andare fino in fondo, deve in qualche modo generare un cambiamento. Guardate, credo veramente, prima tu citavi la dimensione islamica, no? L'ortodossia russa è riuscito anche nei confronti del mondo islamico russo, che è un mondo enorme, che è un mondo anche militarmente molto importante, pensiamo alle milizie cecene, pensiamo anche soprattutto a tutti quei popoli che stanno nella fascia sud, famosi anche adiacenti a quelli che sono i stati della comunità degli stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica, che è un mondo che non è semplicemente affascinante culturalmente e a livello demografico importante, ma che lo è anche da un punto di vista strategico ed economico, di paesi che hanno una crescita tale, che sono stati costituiti dei partenariati, come l'Unione Economica Eurasiatica, ad esempio per citarne uno, per dare loro l'importanza e metterli all'interno del gioco. Quindi probabilmente quello che è stato un po' la svolta nella fase prussiana è un qualcosa che noi stiamo vedendo adesso, volendo appunto utilizzare questo modello, che in qualche modo mi permetto di dire, per usare un termine teologico, è già e non ancora. È già perché effettivamente il cambiamento che abbiamo visto nel mondo, come dicevamo, è irreversibile. male che vada, qualora anche la Russia perdesse questa guerra o altre guerre, ciò che è successo è che tutto è stato trasformato, non c'è assolutamente più niente che sia come prima, che ci piaccia o no. Non ancora perché, perché non è terminata, perché dare un giudizio storico su quello che è un evento ancora in atto è difficile, è limitato e anche limitante. Di sicuro mi sento di dire che probabilmente questo evento, questa fase che stiamo vivendo sarà ricordata come più importante, più grandiosa e più complessa di quello che è stato la fascinantissima storia europea che ha portato a conflitti che purtroppo ancora marchiano nei nostri popoli, nelle nostre memorie, perché qui quello che è stato fatto è stato realizzato proprio a partire dalla considerazione dello spirito dei diversi popoli. Guarda, voglio aggiungere due parole su questo. Guardate, nell'operazione militare speciale, in tutto quello che stiamo vivendo, nelle varie guerre che ci sono nel mondo, su teatri completamente diversi, come si vede sempre di più grazie alla comunicazione di massa, grazie a tutto quello che oggi ci permette comunque di comunicare, di far vedere nel bene e nel male tante cose in tutto il mondo e di diffondere informazioni, cosa diversa dalla conoscenza, ma comunque molto importanti, perché c'è una presa di coscienza che è palesemente differente e che ci fa vedere come i vari popoli, le varie etnie, i vari sistema Stato, i vari orientamenti politici e le relative ideologie interpretano e vogliono portare avanti una riformattazione del mondo completamente diversa. Guardate come noi italiani abbiamo recepito l'operazione militare speciale, le sanzioni alla Russia, l'allontanamento anche culturale nei confronti della cultura russa, con cui abbiamo una millenaria amicizia. Guardate come l'hanno fatto i tedeschi, dove sul piano economico è stato un disastro. Guardate come l'hanno fatta gli americani, già c'erimi nemici che però con la Russia avevano sotto traccia numerosi accordi. Guardate come l'hanno fatto, non lo so, i nostri vicini di casa ad oltralpe. Questo ci fa vedere profondamente come le diversità dei nostri popoli, il modo, lo spirito dei nostri popoli, la nostra dimensione collettiva, non soltanto abbia interpretato in maniera diversa quello che avviene, ma anche e soprattutto ci stia proiettando verso soluzioni differenti. La vera trasformazione, transizione, visto che è una parola che tanto piace, in un mondo moltipolare, passa anche attraverso questo secondo me. Quello che è stato iniziato con l'operazione militare speciale, che ha toccato nel profondo tanti, in qualche modo è stato veramente uno scontro tra modelli di civiltà. E lo stiamo vedendo proprio perché non si risponde più allo stesso modo come si faceva qualche decennio fa, non si è più soggetti allo stesso tipo di egemonia e soprattutto le persone, i popoli, cominciano in qualche modo sempre più attivamente a parlare di queste cose, a occuparsi, a interessarsi e così facendo sta cambiando non tanto l'opinione pubblica, perché finché si ragiona soltanto con le chiacchere da bar va bene o non va bene, sta cambiando la consapevolezza di che cosa vuol dire. Sta cambiando il modo in cui noi cominciamo a decidere personalmente se vogliamo o no partecipare e da che parte stare a certi cambiamenti. E questo credo che farà molto la differenza nel concludere e nello scrivere la storia che verrà dopo. Io Lorenzo ti ringrazio molto di questo confronto, penso che abbia dato molti spunti di riflessione per parecchia gente e ci diamo, se sei d'accordo, appuntamento per una prossima volta. molto volentieri, per me sarebbe un grande onore. Perfetto, e con questo colgo l'occasione per augurare a tutti, buona serata. Grazie.